Per concludere Aberdeen in Hamburgo, l'Aberdeen si è segnalato nel primo turno con l'eliminazione dell'Ipswich che nello scorso anno aveva vinto il torneo, l'Hamburgo in un primo tempo aveva impostato l'incontro sulla Melina ma al 24esimo minuto di gioco Black come abbiamo visto ha sbloccato il risultato portandolo su 1-0. C'è voluto un errore difensivo e una prudenza di Bastrup per dare a Rubes al settimo minuto della ripresa la possibilità di pareggiare a Hamburgo, 1-1 che diventa però 2-1 per la formazione padrona di casa per questo errore difensivo di Rubes che permette a Watson di segnare all'undicesimo minuto. Un po' di botta e risposta nel corso del secondo tempo, al 36esimo viene la terza rete, merito di Iwitt preceduta però da un calcio di rigore concesso dall'Abitros Kötters per questo nettissimo fallo di mano sulla linea di un difensore tedesco, calcio di rigore che Strachan si fa però parare dalla portiera che si tuffa con bello intuito e con bella prontezza sulla sua sinistra. Al 36esimo comunque si è detto Iwitt riesce a realizzare il gol del 3-1, c'è forse un po' una posizione irregolare nel momento del primo tiro in porta respinto, sta di fatto che il gol è concesso al 42esimo, l'ultima immagine di gol che abbiamo per oggi, il gol di Rubes.